Cosa era l'ispirazione per creare questa collezione? L'ispirazione è sempre nel mio DNA che io sono romantica. In questa collezione c'è molto spirito ironico perché per esempio noi abbiamo messo tutti negli outfit i colli col pizzo tipo vittoriano, col lettino di visone, tutto intarsiato. Quindi il sopra dà molta importanza, le maniche sono larghe con i pizzi eccetera. Che tipo di donna rappresenta questa collezione? Soprattutto una donna che ami vivere ed essere un po' ironica veramente, nello stesso tempo romantica. Abbiamo creato questa texture molto secca che viene creata appunto con due vari prodotti. Una volta applicato questo prodotto abbiamo asciugato i capelli molto naturalmente perché l'effetto che vogliamo in questa testa è quello della ragazza giovane che non ha bisogno di andare dal parrucchiere ma appunto la ragazza che prende, si fa la sua coda e esce di casa come se fosse nulla. Cioè dando più importanza magari ai vestiti che ai capelli, come giusto che sia. Adesso mi piace qualcosa di più fresco e minimale. ma la parte di l'altra parte è che il parte del lato è molto forte. La strada di l'eyore, l'eyore è un coloro di purple e la glossa del topo per il effetto più sexy. Il lato è molto importante, questo look, perché l'alighter è molto importante, 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 Matte, shine, creamy, you know, glossy, perché i think rappresentano molto bene il wintero. Ciao, mi chiamo Irina e tu stai guardando World Fashion Channel. Penso che per le ragazze che vogliono essere ragazze, che vogliono essere... che vogliono essere ragazze, non essere ragazze, non essere ragazze. Ciao, mi chiamo Anastasia e siamo Backstage with Blue Girl in Milano. Let's just start with these fun shoes that we got. They're so much fun, they're so fluffy, so warm. And we got see-through tight collars, long collars, and some accessories to go with it. And the look is very fresh and warm and vintory, and got new beautiful girls, so it's amazing. I can't wait for it to start, so let's see. I've actually done this show before, so I'm very excited to be doing this again this season. We're going to love this show. We're going to love this thing, let's get to what it looks like! It's a good idea! We're going to love this show. And we'll be here next a little while and we're feeling a little differently! Okay choose one idea! DrOM zehn capable. and we'll be in the journey. Cheetos come! Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.